e lo facciamo in compagnia delle specie di cucina. Matteo, buongiorno e benvenuto alla nostra famiglia, prego, hai la parola. Buongiorno a tutti, allora iniziamo con il classico romano, il pane e ci sapo le campanate, passiamo al credito del Casentino, per questa razza di un'erba di costituzione, in questo caso, l'azionale romano, spostando ci troviamo formaggi peschi, semifeschi e stagionati, passiamo avanti, passiamo per il piatto, passiamo il piatto, il panico, il piatto, il buon cino, un po' dentro, un po' di patate, andando sui secondi piatti, invece, troviamo il arrosto, diciamo, tradizionale e poscana, pagiamo il servino del Casentino, con il Sanzino, passiamo invece al dolce, Castagnaccio, ben incorsi, grazie a tutti i giorni qui, e a tutti i giorni qui, e io qua, applausi, grazie grazie